www.feyyaz.tv Ora andiamo a camminare uniti, senza che facciamo stronzate l'erno. Ormai crescio, avete la mia. La prossima volta si parla in te, Gavio. E non arrivò il momento di chiudere qualche due serpente. Mi dici cosa succede? Cotto merito non già parli. La pagano. Chissà la pagano, quanto è vero Gesù Cristo lo c'è. È mio. Io mi sento diversa, non sono come voi. Ah! 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 Grazie a tutti.